oi braga ci sei alle 4 per reccare tra 5 minuti che non c'è né mag né place dobbiamo fare un video alla veloce ok fra tempo 5 minuti che finisco di mangiare vengo quello che però non sa è che tra poco succederà questo problema è proprio cosa 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 ma comunque non posso giocare dai ressa ressa ma che cosa fai ma cosa c***o ci posso fare guarda ma cosa c***o devo fare cosa è successo ma non posso giocare perché ma continua la gare no vecchio è il padrutto dai ho invitato braga a registrare dicendogli che avremmo fatto un video su una challenge con le pistoline quello che però non sa è che con una scusa gli farò scaricare team weaver mi farò dare il suo id e la sua password dicendogli che devo entrare per la sincronizzazione dell'audio in realtà questo programma serve per prendere il controllo del computer dell'altra persona quindi mentre giocherà ogni tanto prenderò possesso del suo computer e gli farò buttroppare armi gli farò dare shield gli farò sparare a caso insomma un sacco di cose super super divertenti e voi come avreste reagito scrivetelo qua sotto nei commenti eccoci qua in partita ragazzi braga nuova challenge chi fa più kill con le pistole vince 100 euro devi essere molto molto bravo eh sai che io con le pistole faccio veramente schifo eh per questo l'ho fatta per questo l'ho fatta così almeno non mi rubi 100 euro comunque sta attento perché è pieno di persone qua ci possiamo morire ma io tanto so straforte ne ho già ucciso uno oppa aiuto mi sta già sparando ma ciò qua no occhio eh ti aiuto ah ti aiuto ma sta facendo uno veno con l'arco aiuto aiuto l'ho evitato un botto di volte eh basta che lo itti una volta niente non ce l'ho fatta per ucciderlo oh 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 cosa ha toccato oh 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 cosa 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 braga quanto lagga sta laggando porca porca cioè io non posso registrare così eh no eh mi dispiace quanto stai facendo di ping ma è anche 16 16 16 è normale no ma qual è che c'è cos'è che stai facendo niente non lo so comunque ci sente ok arriva arriva dai non morire non morire per favore io non ho ancora trovato nessuna pistola è brutto sì 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 vieni vieni qua che ho anche aiuto 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 99 bravice peccato non è morto vieni qua che ci facciamo la bomba da scudo attenzione vai let's go let's go cosa 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 capi cosa non capisco cosa stai facendo mamma no braga come hai fatto a morire non è successo cosa sto vedendo cosa è successo ma sta ragando tutto davvero non posso farci niente va bene non fa niente ragazzi challenge proviamo a morire con braga che muore come un pirla è così per ridere mannaggia mannaggia però braga e mannaggia a te dai ma scudo ne fatto niente ma cosa potevo farci la cava tutto va bene va bene va bene andiamo alla prossima eccoci qua in partita braga mega challenge e ce la dobbiamo fare questo è il primo tentativo vero è proprio sì sì è il primo matti mille perché si è mille 1 e poi partendo sei morto di un pochettino vabbia mi lagava tutto non è guarda e non fa niente non fa niente non ti do le colpe prendi qua questa pizzetta ok bravissima però sai che la pizza fa molto male proprio fa veramente male dovresti mangiarla cosa è successo braga niente niente no continua a laggarmi ma scusami io non ho mai visto una persona che quando la gaspara c'è poi non sembra appunto ma il pc o mi sta investendo che sfiga ma parte che sto laggando io proprio forte ti mi sa e mannaggia sto forte ho sparato pure io caso no è raga qua c'è qualcosa di strano qua c'è qualcosa di stranissimo che cavolo e hanno hackerato fortnite anche ha sparato anche a me a caso tipo ogni tanto mi si muove pure non lo so vabbè raga facciamo finta di niente il problema è proprio cosa 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 è successo ma non posso giocare e anche a me lo fa però in modo un po più lieve si vede che a te proprio ti ha colpito bello forte sto sto lag qua comunque cerchiamo di uccidere vuol bene sì 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 ma aspetta che lucido va morto sì 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 andiamo andiamo a regà nonostante gli attacchi hacking noi ce la faremo di che cosa hai bisogno i colpi è tutto no sono morto porca miseria e scappa di porto scappa 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 ma cosa che vecchio vecchio come faccio non capisco cosa sta succedendo a dare e lagga è un casino casino e vieni vieni qua comunque non posso giocare dai resta ma che cosa fai ma cosa che ti posso fare guarda no è vecchio mi dispiace non so non c'è però forse il pad rotto sai che ogni tanto il pad da questi svirgolamenti un po particolare vabbè non lo so non lo so dai vecchi per favore cerca di fissare che è figo il suo video posso facciare la pistola e no non ho manco trovato la pistola ok ho trovato la pistola di calpi calpi ho trovato la pistola viola no cavoli ho trovato pure la mappa di drake bellissimo adesso tanto trovo la pistola oro e ti faccio vedere io è comunque qua c'è gente andiamo subitissimo push up cosa sta succedendo tutto tutto invocato e no ma doveva la gente si 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 uccidiamo e niente ai colpi arco per cortesia aspetta che la cucina non è uscita la pistola è dietro qua sotto qua sotto lo sento lo trovo è qua sotto braga andiamo vinto dove ecco idea ha preso l'auto sto schifoso niente peccato peccato sta morendo sta morendo sono due sono due sono due ok non uscire andiamo uscire non ucciderlo con la pistola però per favore non uscire lo parla con la pistola perché poi un casino così arrivo 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 non morire con la pistola arrivo 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 braga non morire non demordere ce la faremo tutti insieme colpi non c'è porca vacca da dietro morto dai bravissimo mi dispiace mi dispiace c'è l'altro dietro occhio morti via o stiamo giocando bene sta partita 140 c'è gente occhio è occhio di una pistolina bravissimo vai vai uccidere un peccato la anche se non mi conviene vabbè è da dietro no c'è anche senza laggare riesce ragazzi morirci è una qualità veramente che hanno in pochi porca vacca è niente va bene va bene braga però vecchio dai per favore cioè prima la braga o per mi raccomando e mi raccomando chi con la pistolina non moriamo perché qua è che si può fare tutti i pd picciu picciu comunque ovviamente tail andato dove sono io c'è proprio no ma scusa ma testa che teranno qua è colpa mia è colpa mia l'ultimo ma stai ancora la gara per chi non lo sapesse braga oggi c'è il padre che muore da c'è che si muove da solo hai trovato la pistolina cosa è successo cosa cosa è successo cosa no braga dai stiamo a registrare cosa è successo braga ma via d'altra vista di da diventare davvero no qua esagerato no mi capisco qua esagerato qua esagerato c'è gente c'è gente no qua è veramente esagerato proprio a livelli abissali l'ho ucciso comunque incontriamoci incontriamoci dai e incontriamoci vieni verso di me si 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 vengono verso di te ho mandato tutto a fuoco su un pire l'aiuto è un pirlone tranquillo con le splash posso rimediare all'incendio questa seguita solo se seguite i miei miti comunque ok stiamo stiamo qui stiamo vieni un attimo qui sopra vieni qua sotto vieni qua sotto veloce è importante 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 ma perché è proprio una cosa ma ci cavolo cavolo via 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 bia via 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 sto lagando braga aiuto aiuto aspetti come non ho braga video capitoli infatti rho per favore video di quando è importante importante sulla si sicura a valmiè è una sto qua rotto no ci vado add a uccidiamolo guad mi ha nello che hai dato mio mio dio quando l'ora quando sei forte così quando sei una vace c'era un altro mi ha ma che cavolo hai lagato di nuovo non ci creda hai lagato di nuovo c'è un tizzo qua davanti ma il problema è che è pieno di mercava il camera a fuoco eh occhio 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 aspetta aspetta un secondo c'è un tizzo qua davanti ok calvi calvi oh cos'è successo cos'è successo ma scusa non è normale che ti droppi le armi da sole eccoci qua in partita bragone se ce la facciamo non puoi dire speriamo speriamo non ho trovato pistoline e neanche io neanche io neanche io ho trovato pistoline vabbè non fa niente non fa niente perché con la fortuna che abbiamo la troviamo sicuro tanto oggi sta andando tutto a gonfie tele proprio perfetto ma cosa devo fare cosa è successo ma non posso giocare perché ma continua la gare no vecchio il padrutto ma che cacchio lo sai che succede che si è facile cosa beh io quando io quando ho giocato da pad c'era che tipo si rompeva la manopola ma che cavolo è ma così è assurdo c'è manco a volerlo succede così ok eccoci qua la pistolina dov'è la pistolina braga non è ancora trovata una capi vieni vieni qua sopra vieni qua sopra ecco lì ci sono loro hanno la faccia da pistolina loro hanno proprio sì ma si vede si vede che hanno la faccia la pistolina un show di sto pari mai vai vai per sempre per esempio c'è pure un corpo a sopra poi ho intanto 89 agua e one shot one shot one shot pistoline da che sfigato che è veramente o anche i mini per te o anche i mini per te sì ma dove è il tizio a poca vita poca vita dovremmo riuscire ad uccidercelo proprio stress fammi andare un attimo via a parte che c'era la pizza è morto da solo è morto da solo mi sa sì 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 no no braga basta io no sono morto pure io sono morto no no fermo 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 come cavolo è fatta marire ma cosa devo fare ti ha ragazzo di nuovo ma cosa devo fare ma io chiudo forte in meno tipo questo gioco ti basta no no ti reputo ti reputo tranquillo tranquillo ma cosa cavolo vuol dire vada solo il pad vecchio prova a chiudere teamviewer cosa è teamviewer quello dell'audio prova a chiudere dell'audio del controllo del pc mi hai detto che serviva per l'audio sì pure per controllare ti pc ma sei cretino ma sei cretino e quindi stai giocata al vostro sì infatti ho visto che eri migliorato ma eri migliorato dove eri migliorato con la mia che serviva per sincronizzare meglio l'audio ma anche per quello che mi gioverai ma scusa di base si usa è in idea scrivere il controllo del pc è ma te questo è quello segreto è quello che non conoscono i nomi come te capite vabbè ragazzi con questa bellissima kill che faccio adesso io vi saluto aspettate aspettate comunque è stato veramente un bel video è un pagliaccio guarda opla kill assurda che l'assurda let's go no giuro codice calpis nel negozio eggetti e noi ci vediamo in un prossimo video per altri scherzi bellissimi lasciate un sacco di like codice calpis ciao 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 ciao